La costiera amalfitana, che ha una popolazione residente di poco più di 46.000 abitanti distribuita su 14 comuni, registra ogni anno circa 2 milioni e mezzo di presenze turistiche che richiamano alcune migliaia di lavoratori, molti dei quali pendolari. L'esigenza di poter monitorare, nel caso anche regolare, gli accessi all'area è la premessa alla base della proposta di legge che vede tra i primi firmatari l'onorevole Piero De Luca e che mira a disciplinare l'afflusso indiscriminato di persone in costiera amalfitana chiedendo una modifica al codice della strada. L'iniziativa, promossa e sollecitata anche dal presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, ha ottenuto pieno sostegno dei sindaci della costiera ed è stata presentata questa mattina a Palazzo Sant'Agostino. È una proposta questa che mira a dare una risposta alle esigenze e alle difficoltà che ci vengono da tanti amministratori di tutto il Paese. L'obiettivo è quello di rendere più sostenibile, più fluida e più efficiente la mobilità in alcune aree sensibili, di particolare pregio, con particolare vocazione turistica del nostro territorio. L'iniziativa va anche nella direzione di migliorare la sicurezza legata molto spesso all'impossibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere in tempi rapidi i luoghi degli incidenti e punterà anche su un incremento delle vie del mare. Una delle tematiche più calde, per fortuna l'avvento del turismo, l'arrivo di tanti turisti crea questi tipi di problemi di mobilità, soprattutto nei giorni più caldi, quindi sabato, domenica, in estate e in qualche giorno di festa. Il progetto è quello di poter provare a limitare gli accessi quando non si ha un posto ad a disposizione o non si hanno motivi lavorativi per cui ci si muove e questo è ovviamente spingendo molto sui mezzi pubblici e sul mezzo alternativo che è ovviamente la mobilità via mare. Per fare questo però si rende necessario oltre un aspetto tecnico, un aspetto organizzativo che i comuni dovranno mettere in campo è un aspetto normativo che è stato consegnato nelle mani del vice capogruppo della Camera, l'onorevole Piero De Luca, che ha depositato una proposta normativa di modifica al codice della strada. Praticamente possiamo dire meno persone e più turismo di qualità? Ma io non credo meno persone, io credo che ci sia una massa di persone che in alcuni giorni vanno in costiera ma non riescono a fermarsi, quindi saranno sempre le stesse persone e quelle che non riescono a fermarsi e che si eviteranno di fare traf.